Buonasera, buonasera e benvenuti a coloro che non hanno ancora mai seguito i talk di Rodenpartner, bentornati a coloro che invece ci hanno seguiti almeno una volta. Il talk di oggi è dedicato all'e-commerce, alle potenzialità di sviluppo, ma soprattutto a quelle che sono poi le le regole, anche legal, per un corretto utilizzo dell'e-commerce, oltre che una corretta protezione dei dati e della privacy. L'e-commerce è certamente uno dei grandi protagonisti dell'ultimo anno e mezzo, perché è il digital jump che l'Italia ha vissuto, questo salto digitale che ci ha portati in una dimensione, immediatamente in una dimensione diversa, diciamo per necessità e non per virtù, considerato che tutto è stato accelerato dalla pandemia provocata dal Covid. In questo anno e mezzo, dicevo, il digitale ha improvvisamente cambiato, mutato lo stesso andamento del nostro, di gran parte dei nostri lavori, in generale ha cambiato la vita casalinga, perché poi il digitale è anche quello che ha permesso ai ragazzi di studiare in DAD e dall'altra parte, che è quella che ci riguarda e che ci interessa oggi, ha permesso al retail di avere un'arma in più, è un'arma che indubbiamente bypassava le, o gran parte delle problematiche legate al Covid. Dicevo, oggi cercheremo un po' di affrontare alcune delle tematiche più importanti in merito all'evoluzione dell'e-commerce, alla differenza tra il B2B e il B2C e a quelle che possono essere le pratiche di privacy e di tutela dei dati personali. Lo faremo con Paolo Peroni, avvocato e partner di Rodland Partner, esperto appunto in e-commerce, con Flavia Terenzi, che è avvocato e senior associate di Rodland Partner, lei invece è esperta di data protection privacy e privacy, con Mario Bagliani, senior partner di Netcom Service SRL. Prima di iniziare e dando a loro la parola e cercando un po' di dialogare su alcuni dei temi che vi ho accennato, io lascerei spazio per un saluto istituzionale a Marco Cerù, che è il presidente della sezione ANDAF del Lazio, l'ANDAF come sapete è l'associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari, gli do il benvenuto al dottor Gerù e gli lascio la parola per un saluto. Grazie, grazie dottor Trovato, ben ritrovati ai partecipanti che ho già incontrato nel precedente webinar, benvenuti a tutti i partecipanti. ANDAF ha deciso di, come dire, patrocinare questa iniziativa in quanto ha ritenuto i temi che verranno trattati in questa serie di incontri di particolare interesse per i direttori amministrativi e finanziari, al di là del boom dell'e-commerce legato, ahimè, a eventi pandemici che ci hanno costretto in qualche modo a casa e quindi a dover ricorrere a questo strumento forse più per necessità che per virtù, è indubbio che l'evoluzione tecnologica impone anche ai direttori amministrativi e finanziari una serie di riflessioni nell'ambito non solo dei temi di protezione ai dati ma proprio di rivisitazione di processi, di identificazione di nuovi strumenti di pagamento, di rivisitazione, degli aspetti anche fiscali legati al fatto che con l'e-commerce si apre un mondo che spazia non più sul locale ma anche sull'internazionale e quindi con particolare piacere che do il benvenuto a tutti voi e ringrazio Radel per averci coinvolto in questo progetto multi webinar. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie, grazie dottor Ceru. Dunque, come accennavo prima, l'e-commerce ha diversi volti e sfaccettature. Proviamo ad affrontare un primo aspetto e cioè la diversa prospettiva tra il business to business, il cosiddetto B2C e il B2B e il B2C. La domanda, entriamo nell'ambito diciamo così un po' più legal e cioè quali sono gli obblighi informativi quindi di conformità normativa e gli elementi contrattuali che devono essere considerati in caso di siti web appunto rivolti al consumo, il B2C oppure al business, il B2B. Una domanda che rivolgo appunto a Paolo Peroni a cui do il benvenuto chiaramente. Grazie mille Isidoro e buonasera a tutti. Allora, indubbiamente il commercio elettronico implica la necessità di considerare una pluralità di tematiche concernenti veramente diversi aspetti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, i principi di diritto della concorrenza applicabili, le disposizioni in materia di diritto della pubblicità, ovviamente le normative in materia di privacy che poi approfondiremo e anche delle norme specifiche connesse alla tipicità dei prodotti o dei servizi che vengono offerti attraverso il web. Le norme di riferimento sono in primis il decreto legislativo 70 del 2003 dedicato proprio all'e-commerce e il codice del consumo tra le tante norme che ovviamente devono essere tenute in considerazione nell'implementazione di un progetto di commercio elettronico. Giustamente puntavi l'attenzione sugli obblighi informativi che costituiscono un elemento prioritario nel momento in cui si decide di affrontare la vendita e l'offerta di prodotti e di servizi attraverso il canale online e in generale sia che si operi in ottica B2B che in ottica B2C ci sono alcune informazioni che devono essere fornite a carico del prestatore, cioè le informazioni che riguardano le comunicazioni commerciali, le informazioni generali obbligatorie che hanno la finalità di consentire la corretta identificazione del prestatore dei servizi e l'indicazione anche in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe cui i servizi vengono offerti. Altrettanto rilevanti, dicevo, sono anche gli obblighi informativi in relazione alle comunicazioni commerciali che devono essere immediatamente identificate come tali e nello stesso tempo deve essere anche individuata la persona fisica o giuridica per conto della quale viene trasmessa la comunicazione commerciale. Regole particolari, passando invece al B2C, riguardano i rapporti con i consumatori che sono appunto tutti coloro che agiscono nel quadro al di fuori diciamo di attività professionale o commerciali. Il codice del consumo stabilisce che prima che il consumatore possa essere vincolato da un contratto concluso a distanza, il professionista, quindi l'operatore diciamo che offre i propri servizi via web, deve indicare una serie di informazioni in maniera molto trasparente e anche intellegibile inerenti le caratteristiche principali dei servizi dei prodotti, l'identità del professionista, l'indirizzo che consenta di contattare il professionista in caso di necessità, il prezzo totale di beni dei servizi e tutte le spese aggiuntive. In più, in relazione ai rapporti, tutti i rapporti con i consumatori, deve essere offerto diritto di recesso, deve essere trasmessa anche un promemoria circa l'esistenza della garanzia legale di conformità dei prodotti. E sempre in ambito B2C esiste un regolamento europeo sull'online dispute resolution che ha istituito una piattaforma di risoluzione delle controversie, stragiudiziali delle controversie di cui occorre tener conto. Questi ed altri sono appunto gli obblighi informativi che devono caratterizzare ogni iniziativa tenendo conto, nel momento in cui ci si rivolge ad un pubblico di consumatori, di tutte le tutele e protezioni rivolte ai consumatori dal codice del consumo. Non ti sentiamo. Hai ragione, hai ragione. Dicevo, abbiamo iniziato a fissare alcuni paletti per la definizione di quello che è il campo poi in cui ci si muove, anche il campo normativo in cui ci si muove per una corretta utilizzo e creazione di un ambiente e-commerce. A questo punto coinvolgerei Mario Bagliani che come vi dicevo è il senior partner di Netcom Service, a cui do il benvenuto. Vi chiedo di presentare intanzitutto chi è il consorzio Netcom e di cosa si occupa e poi proviamo a definire alcuni degli altri aspetti di B2B e B2C. Intanto benvenuto a Mario e a lui la parola per spiegare chi è e di cosa si occupa il consorzio Netcom. è un'associazione, un consorzio nato 16 anni fa per sostenere lo sviluppo dell'e-commerce e dell'economia digitale. Oggi ha circa 480 soci che sono sia aziende che vendono online, sia brand tradizionali, sia trasportatori, banche, payment e sostanzialmente siamo un knowledge hub, quindi produciamo ricerche, contenuti e giustamente tocca il tema del B2B perché spesso quando si parla di e-commerce si pensa sempre a certi siti o certi prodotti mentre c'è anche il B2B e ovviamente la crescita di quest'anno e mezzo, come dicevi, anche e soprattutto a causa del Covid è stata enorme anche nel B2B e ricordo peraltro che quasi il 94% delle aziende italiane sono B2B perché anche le aziende che producono tipicamente il made in Italy in realtà lo vendono a distributori, a negozianti, a importatori. Infatti ieri chiacchierando vi dicevi che c'è stata una crescita esponenziale proprio del B2B, mi pare, no? Sì, probabilmente complessivamente è cresciuto più il B2B del B2C, proprio perché da un lato forse era anche più indietro quindi ad esempio i buyer, quindi aziende che hanno comprato online ormai parliamo di quasi 9 su 10 magari un primo acquisto marginale ma sono aumentate del 60%, chi ha già un sito e-commerce B2B io utilizzo i marketplace B2B ha aumentato, ha quasi raddoppiato le vendite mentre se guardiamo il B2C nei prodotti abbiamo avuto un più 45% però abbiamo avuto il crollo dei servizi ovviamente, quindi il viaggio con punte però di settori come ad esempio il food e il grocery, quindi la spesa online che sono cresciuti del più 120, più 150% proprio a causa del Covid quindi ecco due sfere di opportunità diverse per le aziende, il B2C e il B2B ma il B2B spesso, fare e-commerce B2B spesso è un po' più facile quando si conquista un cliente spesso nel B2B è un cliente che compra di più e più frequentemente quindi ecco il tema di parlare anche di e-commerce B2B è doveroso proprio perché è una delle opportunità sia come sito proprio e si porta dietro tutte le complessità di cui parlava anche Paolo Peroni prima sia anche quei marketplace perché anche nel mondo del B2B esiste il modello ovviamente dei marketplace Possiamo dire che per avere un polso reale della situazione dell'e-commerce italiano sia il B2B che il B2C dobbiamo aspettare proprio questo 2021 per giudicare meglio il 2020 perché il 2020 ha avuto una grandissima esplosione però ha avuto anche alcuni settori cardine come il turismo, la ristorazione, la bigliettistica in generale che si sono fermati, del tutto congelati per capire davvero quali sono le proporzioni forse dobbiamo aspettare il 2021 o comunque la ripresa? Ma allora sicuramente c'è un cambio di comportamenti d'acquisto che è iniziato già da tanti anni che ha avuto un'accelerazione, devo dire rimaniamo sempre sorpresi da come poi arrivano anche novità sul mercato che addirittura vanno a aumentare i trend però se guardiamo il 2021 e guardiamo quello che è già successo in questi primi mesi vediamo un po' che chi ha scoperto l'e-commerce così come succedeva anche prima del Covid solo in piccola parte torna indietro e poi proprio alcune categorie che erano io le chiamavo l'Everest dell'e-commerce proprio il food and grocery perché c'è la verdura fresca, c'è la bottiglia di vino, c'è il prodotto porzionato e questo che era l'Everest anche per il cliente perché fare un ordine in questi settori quindi la prima ordine è difficile, molto difficile, vediamo che tutto sommato questa nuova abitudine in settori nuovi sta rimanendo perché l'e-commerce vince perché è servizio, perché è soprattutto logistica quindi sono d'accordo con Teisidoro che dobbiamo aspettare a vedere un po' però stanno arrivando anche molte novità perché contemporaneamente a questa situazione di lockdown è aumentata l'offerta di e-commerce, sta utilizzando la dismisura Certo, certo Allora, uno scenario che cambia in costante mutazione Flavia Terenzi, come si implementa correttamente un sito web? Sì, grazie e innanzitutto Partiamo dai fondamentali Esatto Benvenuta Grazie e ben trovati anche a tutti Allora sì, innanzitutto mi piace pensare e fare un parallelismo tra il sito e-commerce a quello che può essere il concetto di privacy by design chi magari un minimo si intende di privacy sa cos'è la privacy by design consiste in un'impostazione fin dall'inizio quindi dal momento dell'inizio del trattamento in questo caso dal momento in cui si inizia a pensare ad un sito, a svilupparlo di tutti quelli che possono essere gli elementi che vanno ovviamente a connotarlo quindi si tiene conto se di quelli che possono essere i costi di attuazione di implementazione, le tempistiche perché ovviamente anche quelle fanno la differenza gli elementi relativi alla sicurezza del sito internet perché è molto importante fino poi ad arrivare anche ovviamente al trattamento di dati di cui vedremo meglio dopo quindi pensare a come impostare correttamente un sito internet nell'ottica di privacy by design e poi by default perché ovviamente va sviluppato e manutenuto nel tempo è molto importante perché ci consente di capire che in realtà il sito internet è una vetrina è una vetrina di quella che è la realtà della società è un qualcosa attraverso cui la società esprime quello che è il proprio pensiero e il proprio modo di essere e attraverso il quale dà un'immagine diciamo di sé a quello che può essere ovviamente l'utente piuttosto che il consumatore quindi dare fin dall'inizio un'immagine diciamo accattivante perché questo deve essere ma allo stesso tempo rispettosa di quelli che sono gli obblighi di quelle che sono le prescrizioni normative è assolutamente importante perché questo consente e concorre alla crescita al business dell'azienda e anche a fidelizzare al punto di vista in questo caso digitale perché ovviamente non parliamo fisico quelli che sono i propri utenti e consumatori quindi sicuramente per poter rendere diciamo di esaltare la propria immagine e dare appunto questa vetrina quindi presentarsi bene di solito ci si avvale di un esperto comunque di web design o comunque di una web agency che sia esperto ovviamente nel settore proprio perché possa diciamo rendere i contenuti accattivanti e interessanti per l'utente ma allo stesso tempo possa costruirle in modo da rendere il più semplice e chiaro possibile ovviamente per l'utente perché non dimentichiamoci che magari un utente medio di fronte a dei contenuti molto complessi o difficili oppure di fronte a un sistema di navigazione anche di user experience del sito complesso potrebbe non essere appunto accattivato in qualche modo e interessato a utilizzare il sito un altro aspetto diciamo importante ovviamente possono essere quello di cui abbiamo accennato i costi di implementazione perché ovviamente oltre allo sviluppo di un sito web e quindi la creazione magari di un dominio più affidabile rispetto ad altri che poi possa essere anche connaturato da sottodomini piuttosto che da siti esterni ovviamente è importante anche molto spesso diciamo i gestori dei siti si affidano a società outsourcing o comunque a sviluppatori esterni la manutenzione e lo sviluppo dal punto di vista tecnico del sito quindi creare delle misure tecniche che consentano ovviamente al sito di renderlo sicuro quindi prevenire abusi e foro di informatiche che possano tradursi in incidenti di sicurezza oppure in violazione di dati se coinvolgono dati personali il terzo aspetto che poi vedremo magari meglio quando parleremo ovviamente anche della data protection riguarda ovviamente il software e quindi affidarsi in qualche modo a società esperte ovviamente nel settore e affidabili perché questo aumenta ovviamente anche l'affidabilità dell'azienda stessa ecco approfondiamo proprio questo aspetto qui che mi sembra una allora il paragono con la vetrina è eccellente perché effettivamente è quello che rende maggiormente l'idea no, l'e-commerce è realmente una vetrina e molti retailer hanno fatto un po' fatica a comprendere che un sito internet, un e-commerce peggio ancora poco aggiornato è come lasciare degli oggetti vecchissimi in vetrina quindi è un biglietto a visita pessimo ma sul fronte della protezione invece dei dati personali quali sono gli aspetti principali da tenere d'occhio? Sì allora innanzitutto è importante conoscere il proprio sito quindi conoscere quelle che sono le funzionalità del sito perché le funzionalità implicano ovviamente un trattamento di dati personale quindi mappare i trattamenti che è possibile effettuare attraverso i siti e in particolar modo i dati personali degli interessati e dell'utente trattato ovviamente è fondamentale, è il punto di partenza se non si conoscono questo non si può costruire una privacy diciamo che sia conforme ovviamente a quella che è la normativa parliamo in particolar modo del GDPR ma non solo perché parliamo anche della normativa privacy del decreto legislativo 196 del 2003 che per alcune parti è ancora ovviamente applicabile non è stato oggetto di revisione da parte del GDPR perché si ispira ancora la direttiva i privacy quindi la direttiva 2258 c'è poi parliamo anche di una serie di provvedimenti ovviamente dell'autorità che vedremo attenzione perché spesso quando si parla ai dati personali si tende ad omettere alcuni dati quali dati di navigazione quali cookie o altri sistemi di tracciamento che si tende diciamo a non includere i dati personali invece questi sono tra i dati personali più importanti e che anzi hanno maggiore poi rilievo e comportano anche una serie di adempimenti privacy quindi quello che in punto di partenza abbiamo detto mappatura quindi conoscere bene il sito, le finalità, i dati trattati nelle loro varie collocazioni quindi tener conto anche dei sottodomini piuttosto che dei siti esterni perché anche quelli sono importanti quindi dei vari entry point del sito costruire una, un banner cookie che se diciamo penso che ormai molti di voi lo conoscono sono delle stringhe diciamo ovviamente di trazzamento dei file di testo che trazzano dati personali e il banner cookie è molto importante e va costruito in maniera diversa a seconda che parliamo di cookie tecnici analitici piuttosto che di profilazione molti siti tendono poi ad implementare una CMP per chi non la conosce non è altro che un modo di è una sorta di piattaforma di consensi ovviamente per i cookie perché cookie ad esempio analitici di profilazione salvo che gli analitici non siano onimizzati richiedono il consenso e un rimando diciamo sempre nel banner cookie alla cookie policy la cookie policy non è altro che un'informativa estesa di quelli che sono i cookie e gli altri sistemi di tracciamento con ovviamente una serie di informazioni legati alla conservazione alle finalità alle basi giuridiche alla comunicazione diciamo a terzi è importante alle modalità per controllare e disabilitare dal proprio browser i cookie tutte queste informazioni ma non solo devono essere ovviamente racchiuse in una privacy policy la privacy policy non è altro che un documento chiamiamola molti la chiamano un'informativa del sito sì possiamo definirla un'informativa del sito anche se ovviamente è un po' diversa perché viene strutturata proprio in modo da raccogliere anche i cookie il banner e quindi sostanzialmente ha un tipo di forma e di linguaggio molto diverso perché ovviamente deve raggiungere l'utente in maniera anche diretta e semplice la privacy policy quindi oltre diciamo agli elementi essenziali che di solito contengono tutte le informative che sono le indicazioni del titolare piuttosto che del responsabile la protezione dei dati anche detto di PO se conosciuto deve contenere ovviamente le indicazioni di tutti i dati trattati dati volontariamente ad esempio resi dall'utente quali possono essere attraverso l'iscrizione alle newsletter piuttosto che a un form di contatti dati piuttosto che a una creazione di un account e quindi a una forma di login ad un sito ad esempio e-commerce con acquisto di prodotti o di servizi fino poi ad indicare le finalità e la base giuridica di ciascuno di questi trattamenti di dati di solito ovviamente quei dati che richiedono un login quindi una registrazione piuttosto che una richiesta di consenso dati vengono ricompresi sotto gli obblighi contrattuali mentre invece dati quali iscrizione alla newsletter piuttosto che consensi privacy per attività di marketing o di profilazione che soprattutto per il B2C è molto importante richiedono ovviamente un consenso esplicito dell'interessato ma non ultimo in particolare ovviamente importanza è l'aspetto della comunicazione di dati che molto spesso viene poi dimenticato anche in un'informativa ma questo è ancora più importante in una privacy policy la comunicazione di dati non dovete pensare che sia soltanto ad una comunicazione diretta da parte del gestore quindi che può essere fatta o ad un altro partner piuttosto che a enti o autorità di controllo ma dovete pensare che la comunicazione e questo è un aspetto importantissimo per i siti internet è anche la condivisione sui social network molto spesso questo aspetto viene tralasciato perché si pensa che l'inserire un tasto di insight o di redirect a un social network che sia Instagram piuttosto che Facebook non sia una modalità di comunicazione di dati invece una modalità di condivisione dei dati attraverso il social network che molto spesso implicano anche un trasferimento di dati extra web e quindi è importante che vadano mappati chiarissimo e questa parte qua particolarmente importante anche perché forse è anche quella meno esplorata e meno conosciuta dai più per cui va accentuata la conoscenza e sottolineata la sua importanza dunque il commercio elettronico ha come altro pilastro fondante la piattaforma e-commerce allora le piattaforme e-commerce Paolo come possono più operatori commercializzare i propri prodotti o i propri servizi attraverso un'unica piattaforma partiamo quindi dalla domanda basic più operatori che commercializzano su un'unica su un'unica piattaforma come è possibile quali sono le regole del gioco sì ovviamente qui le regole se vogliamo sono più articolate perché abbiamo tre attori sostanzialmente che partecipano a operazioni di questo tipo che sono il gestore della piattaforma l'utente che attraverso la piattaforma offre i propri prodotti e servizi quindi il professionista che utilizza la piattaforma per la commercializzazione per le proprie attività commerciali e il consumatore che accede alla piattaforma per acquisire i prodotti e i servizi chiaramente questo pone anche un tema di gestione in qualche modo seriale e uniforme dei rapporti fra questi tre tipologie di attori che implica anche la necessità di regolamentare da parte della piattaforma in maniera uniforme attraverso delle condizioni generali d'uso della piattaforma i meccanismi di funzionamento quindi le attività degli inserzionisti le attività commerciali di vendita attraverso la piattaforma tutto il sistema anche dei pagamenti che in genere vengono intermediati attraverso la piattaforma e sicura ovviamente anche con il supporto di payment provider evidentemente e l'accesso agli utenti poi Flavia poco fa citava un ulteriore tema che può rendere ulteriormente interessante diciamo la navigazione sulla piattaforma che è quello anche della condivisione di contenuti e c'è un tema importante di proprietà intellettuale e anche di diciamo responsabilità connessa a tutti i contenuti che attraverso la piattaforma possono essere circolarizzati e veicolati verso i diversi utenti quindi evidentemente c'è un tema di gestione per esempio anche dell'utilizzo dei brand all'interno delle piattaforme per contrassegnare il prodotto o il servizio con tutta una serie di responsabilità che possono seguirne e anche delle necessità di disciplinare questi profili attraverso delle adeguate condizioni appunto contrattuali è un tema quello delle piattaforme interessantissimo anche perché evidentemente costituisce questo è già molto molto noto un enorme diciamo opportunità per gli operatori sia nel momento in cui si rivolgono ai grandissimi marketplace diciamo con una presenza capillare mondiale e qui c'è anche un tema evidentemente internazionale molto significativo e anche fiscale che può essere rilevante ma le piattaforme possono essere anche degli ottimi strumenti di aggregazione di una pluralità di operatori che possono commercializzare i propri prodotti attraverso appunto un negozio online multibrand teniamo presente che le piattaforme incominciano ad essere anche oggetto di attenzione da parte dei regolatori dei legislatori in particolare lo scorso 12 luglio è divenuto applicabile in tutti gli stati membri il regolamento piattaforme P2B che promuove equità e trasparenza nei rapporti tra utenti commerciali e servizi di intermediazione online si inserisce appunto nel più ampio diciamo trend di regolamentazione del mercato unico digitale a livello europeo che è evidentemente anche indirizzata favorire a tutelare maggiormente gli utenti business in che modo imponendo a tutte le piattaforme una maggiore trasparenza nella definizione dei temi delle condizioni contrattuali anche nei rapporti solo verso i consumatori non solo verso coloro che acquistano il prodotto ma anche nei confronti di coloro che i prodotti li vendono e tra l'altro questo regolamento teniamo presente che si applica a tutti coloro che offrono i propri prodotti i propri servizi utenti commerciali con sede nel territorio dell'unione e questo a prescindere dalla nazionalità tra virgolette della piattaforma quindi ha un campo di applicazione molto ampia ma molto ampio e introduce delle norme di cui occorre tener conto quindi tant'è che molti operatori che agiscono e che possono definirsi e qualificarsi come piattaforme stanno adeguando i propri terms and conditions in particolare termini e condizioni devono essere scritti in un linguaggio semplice e comprensibile e devono essere facilmente reperibili in tutte le fasi del rapporto contrattuale e precontrattuale e identificare anche le ragioni che possono portare alla sospensione cessazione o limitazione della fornitura dei servizi che ovviamente per un operatore professionale che offre i propri prodotti attraverso la piattaforma costituisce un elemento di rischio che deve essere noto e devono poi contenere diciamo delle informazioni sugli effetti contrattuali sulla proprietà e sul controllo dei diritti di proprietà intellettuali degli utenti business tutto questo senza dimenticare un altro elemento molto importante che è stato introdotto dal regolamento P2B che è quello della trasparenza dei criteri di posizionamento del ranking degli utenti commerciali all'interno dei motori di ricerca che obbliga tutti i gestori ad indicare i principali parametri che individualmente e collettivamente sono più significativi dicevo la piattaforma quindi è un ottimo strumento per consentire di creare sistema se vogliamo fra le aziende ma è uno strumento che può anche introdurre delle formule e dei modelli di business estremamente innovativi penso anche all'economia circolare ma è un modello di business un metodo diciamo di vendita che comporta anche la necessità di osservare delle disposizioni di legge e quindi c'è un tema diciamo di compliance normativa abbastanza significativo che bisogna sempre valutare hai spiegato queste che sono le regole diciamo poi che disciplinano la compresenza degli operatori commerciali all'interno della stessa piattaforma e-commerce invece come si regolamentano i rapporti tra chi gestisce la piattaforma e gli operatori che la utilizzano ma allora sì gli operatori cioè gli operatori intesi come inserzionisti sì o gli inserzionisti o anche chi poi invece va da da cliente diciamo poi sulla piattaforma se ci sono delle differenze no ci sono delle differenze perché ovviamente considera che sono come due versanti della montagna da una parte devi andare a disciplinare dei rapporti con degli utenti business osservando tutte le disposizioni che richiamavo prima dall'altra hai degli obblighi informativi nei confronti dei consumatori che ti costringono tra virgolette ad acquisire determinate informazioni dall'inserzionista da chi vende in modo da poter trasferire in maniera trasparente verso i consumatori quindi c'è un tema importante tra virgolette un flusso anche di informazioni che deve essere gestito adeguatamente per poter consentire alla piattaforma di essere compliant poi nei rapporti con il consumatore finale o meglio la struttura il sistema devi creare un sistema regolamentato che consenta anche al professionista di vendere secondo determinate regole il proprio prodotto all'utente finale e tu come gestore della piattaforma hai delle responsabilità rispetto anche a questo tema perché è vero che sei terzo un soggetto terzo rispetto al tema della vendita ma rispetto al tema della compliance normativa dal punto di vista delle norme concernenti l'e-commerce tu gestore della piattaforma sei il soggetto che detta le regole e quindi devi farlo osservare su entrambi i fronti il tema importantissimo è quello è quello dei pagamenti ovviamente anche questo devi identificare bene i soggetti e un tema rilevantissimo è quello della data protection perché evidentemente in una piattaforma hai due soggetti tra virgolette che possono gestire dei dati quindi c'è la necessità dei dati di consumatori che acquistano il prodotto e quindi c'è un tema molto importante privacy grazie grazie Paolo allora abbiamo capito un po' le regole le regole del gioco per le piattaforme che sono come evidenziava bene Paolo per ogni prima hanno diversi fronti inquadrature diverse da prospettiche rispetto a chi stiamo parlando tra chi commercializza all'interno chi gestisce la piattaforma chi è invece un operatore che la utilizza o un operatore che se ne serve per acquistare proviamo a capire invece l'impatto sul business che può avere le piattaforme perché le piattaforme anche in questo frangente qui sono multiformi nel senso possono rappresentare un'opportunità per lo sviluppo del commercio diciamo di prossimità però anche un driver di spinta per l'internazionalizzazione non dimentichiamo che l'Italia è un paese fatto di piccole e medie imprese che raramente hanno la forza economica e la rete distributiva per poter arrivare all'estero meno che mai nei paesi lontani l'e-commerce invece sembra essere lo strumento ideale per superare tutti questi nodi legati a una capacità patrimoniale di investire e a quella di avere una logistica una rete distributiva efficace chiedo a Mario Bagliani come convivono queste due anime cioè il da una parte l'e-commerce di prossimità dall'altra la chiave dell'internazionalizzazione Beh vabbè convivono perché diciamo che in una strategia moderna c'è sempre spazio oggi per fare ed è sostanzialmente obbligatorio avere una strategia doppia quindi sia il proprio sito sia il marketplace negozio di prossimità magari punta più alla piattaforma marketplace con i servizi di delivery magari non ha la forza di fare un sito con tutta la gamba però magari può con qualche prodotto andare all'estero diciamo che le piattaforme sono una grandissima opportunità perché hanno quote di mercato importanti come giustamente ha detto tu Isidoro specie se vuoi andare in paesi come la Cina Sud America vuoi far digital export è chiaro che queste piattaforme ti accelerano molto la velocità per raggiungere questi mercati digitali ti abbattono gli investimenti necessari e poi ti muovi in un ambiente chiuso la piattaforma che è molto più facile da usare mentre magari arrivare in questi mercati col proprio sito richiede poi investimenti in digital marketing complicati da notare che c'è anche la piattaforma e forse anche quello che intendeva Paolo è proprio l'azienda già di dimensione medio grande che non solo cavalca le piattaforme e trova una strategia per usare proprio siti e-commerce e piattaforma ma lei stessa diventa una piattaforma perché il modello diciamo la piattaforma se vogliamo nel commercio proprio il marketplace è un modello vincente ma è un modello vincente lasciatemi dire al di là del canale digitale perché il marketplace prima se volete sono i mercati comunali sono i mall tipo la rinascente dove quindi il soggetto che vende fa lo scontrino non è sempre solo uno come nel retail quindi al di là del prodotto che compro è un modello vincente perché permette di aumentare l'offerta e lo è in particolar modo nell'e-commerce ovviamente e vediamo che molte aziende italiane ma anche di dimensione non enorme stanno puntando a questo modello quindi abbiamo retailer penso ai price che ha aperto già quattro anni fa il suo canale marketplace e quindi io lì dentro trovo prodotto venduto dai price che agisce come retailer e prodotto venduto da soggetti terzi lo sta facendo Shan lo sta facendo Decathlon pensando ai grandi gruppi e abbiamo visto in Italia il caso di Granarolo quindi un'azienda di prodotto che non solo lancia proprio e-commerce diretto ma lo fa già con un canale anche marketplace proprio perché vuole aumentare l'offerta di prodotto e poi lo vediamo nel B2B abbiamo Siemens Toyota che non per fare acquisti non parlo di portali procurement ma parlo di vendere i propri rivenditori magari milioni di parti di ricambio che arrivano da 200 produttori diversi ma gli vendo anche assicurazioni gli vendo formazione e allora ecco che adottano il modello di piattaforma dove sono i singoli chiamiamoli venditori nell'e-commerce si chiamano merchant che entrano si registrano magari sono modelli chiusi c'è una qualifica ma poi sono loro che vendono direttamente all'officina meccanica Toyota Siemens adesso ho fatto quell'esempio quindi questo modello a piattaforma è addirittura direi il modello misto dove lo stesso soggetto nello stesso sito un po' è lui che vende direttamente un po' è marketplace quindi aggiunge complessità anche per gli aspetti che si toccavano prima normative di compliance però è un'opportunità di business enorme perché chi aggiunge il canale marketplace può magari magari quell'azienda da vendere 500 prodotti aprendo il canale marketplace ne può mettere in vendita 3000 aumenta l'esperienza dell'utente e poi le piattaforme oggi hanno anche modelli molto complessi penso a chi vende direttamente ma si approvvigiona real time e fa consegnare la merce direttamente dal fornitore in drop shipping che lo fa in nome per conto di chi ha venduto questo vale abbiamo il dato solo negli Stati Uniti ma il 55% di e-commerce avviene così chi ti vende la merce in quel momento non la possiede o non è nel suo magazzino e quindi ecco che i modelli a piattaforma aprono modelli di business molto interessanti molto opportuni a punto di vista economico e sicuramente che richiedono un'attenzione normativa agli aspetti della privacy addirittura aggiungo saper cavalcare questi aspetti normativi di privacy oggi fa la differenza nel mettere in piedi un marketplace o aggiungere quindi diventano una leva strategica per accedere a modelli un po' sofisticati sugli aspetti che toccavano prima Flavio e Paolo ecco perfetto l'imbeccata di Mario è perfetta per rivolgere la parola a Flavia Terenzi e la domanda è questa il ruolo della privacy sulla piattaforma e-commerce perché lì ci operano il proprietario il gestore del sito web il fornitore poi ci sono i social network ci sono vari vari attori quale quale invece dal punto di vista della privacy quali regole esatto come appunto giustamente accennavi ci sono diversi soggetti che operano in un sito web all'interno della piattaforma quindi è importante conoscere differenziarli e ovviamente mapparli tutti allora il primo abbattuto ovviamente c'è il proprietario diciamo il gestore del sito web che appunto è il titolare diciamo dei trattamenti che vengono effettuati attraverso il sito web quindi è il titolare dei dati personali ed è poi il soggetto che viene indicato normalmente appunto nell'informativa che può essere poi accompagnato o meno da un responsabile di protezione dei dati o DPO se ovviamente è previsto e se è nominato accanto a questo ovviamente è possibile che il titolare magari si avvalga per alcune attività che potrebbero essere faccio un esempio la partecipazione a dei contest piuttosto che degli eventi in condivisione con altri partner potrebbe diciamo avvalersi quindi nell'ambito di una partnership di un altro titolare autonomo ovviamente anche questo soggetto per i trattamenti effettuati in doppia titolarità vanno ovviamente riportati nelle privacy policy come piuttosto che un trattamento in doppia titolarità potrebbe esserci invece una contitolarità nel senso dell'articolo 26 del GDPR la contitolarità ovviamente si fa un po' più di attenzione perché implica qualcosa in più rispetto a una titolarità autonoma perché presuppone un accordo tra le parti una informativa ovviamente comune quindi in cui entrambi i soggetti individuano quelli che sono i mezzi e le finalità del trattamento e anche misure di sicurezza comune quindi lì c'è proprio una centralizzazione una gestione diciamo dei dati ovviamente da entrambe le parti quindi è un qualcosa in più spesso quello che diciamo che si rileva che soprattutto per ragioni di costi lo sviluppo diciamo del sito non viene effettuato internamente quindi attraverso magari il personale interno ma spesso ci si appoggia quindi nello sviluppo di queste piattaforme e-commerce a società specializzate in questo specifico ambito che non sono altro che fornitori di servizi e fornitori ovviamente vanno mappati e vanno nominati responsabili del trattamento perché è un aspetto spesso da non tralasciare si pensa al fornitore come colui che sviluppa la struttura dal punto di vista tecnico invece molto spesso vi sono degli interventi di implementazione e di manutenzione sul sito che devono essere fatti necessariamente in chiaro quindi su dati diciamo reali e non su dati anonimizzati o aggregati e questo determina un trattamento dei dati da parte del fornitore che quindi deve essere nominato responsabile del trattamento esenziale l'articolo 28 attenzione poi che molto spesso diciamo i fornitori si avvalgono palloravolta di altri responsabili del trattamento che sono sub fornitori del titolare e potrebbero ad esempio utilizzare a loro volta delle ulteriori piattaforme anche cloud che non sono collocate necessariamente all'interno dell'Unione Europea e quindi questo potrebbe dare anche diciamo un ulteriore problema che è quello di verificare eventuali trasferimenti extra web che è un tema di cui si parla diciamo molto molto importante spesso viene tralasciato nell'e-commerce ma nella maggior parte dei casi ovviamente si verifica e poi è sempre più diffuso l'utilizzo di cloud e questo presuppone diciamo ovviamente la verifica di una serie di condizioni condizioni che sono state rafforzate a seguito della sentenza Schrems 2 della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 perché ad esempio è stato invalidato il privacy shield quindi lo scudo l'accordo scudo tra Unione Europea e America e sono state richieste delle misure rafforzate in generale per i trasferimenti extra web da non ultimo da non tralasciare sono i social network come accennavo prima spesso i siti web hanno delle condivisioni attraverso social network di contenuti attenzione perché la condivisione di contenuti va regolata perché comunque presuppone la comunicazione di dati a soggetti che agiscono come titolari autonomi che possono essere i vari Facebook e Instagram quindi la privacy policy deve sempre riportare link alle privacy di questi specifici gestori e social network e da non ultimo prestate particolare attenzione al tema cookie perché vi sono alcuni cookie di Facebook in particolar modo ad esempio i pixel piuttosto che altri che invece danno adito ad una contitolarità del trattamento da parte del gestore con Facebook stesso e questo è stato ampiamente chiarito anche nelle recenti linee guida delle DPB sul social media targeting perfetto grazie mille grazie mille a Flavia terzo argomento andiamo verso la chiusura del nostro talk e a questo punto chiedo ai relatori uno sforzo un ulteriore sforzo di sintesi e di brevità perché cerchiamo di rimanere nei tempi il terzo tema è quello legato all'economia circolare il digitale è di fatto un driver di sviluppo anche dell'economia digitale Paolo Paolo Peroni ci spieghi perché e in che senso ci dai una panoramica di questo di questo fenomeno della connessione tra digitale e economia circolare sì diciamo che sicuramente le tecnologie digitali abilitano abilitano la possibilità di creare dei sistemi di economia circolare e tra l'altro costituiscono anche uno dei capisaldi della transizione che stiamo vivendo in questi mesi verso un'economia improntata al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile in particolare l'intelligenza artificiale l'internet of things la blockchain consentono evidentemente di elaborare dei modelli di business circolare e remunerativi ma che creano anche delle diciamo da una parte disintermediazioni dall'altra anche la possibilità di seguire diciamo il ciclo vita dei prodotti dei servizi con dei sistemi completamente innovativi e quindi il digitale in sé quindi sicuramente anche l'e-commerce costituiranno un elemento importantissimo nel processo di transizione verso una economia circolare che sta interessando in maniera molto trasversale tutto il mondo delle imprese con il conseguimento da una parte di vantaggi competitivi importanti ma dall'altra anche del diciamo il perseguimento di un obiettivo ancora più alto che quello di creare un valore che sia massimamente condiviso che vada a diciamo beneficio di una più ampio perimetro di stakeholder al di là di quelli che sono i protagonisti e gli attori economici diciamo di un'iniziativa e veramente non c'è dubbio che ci sia e sia stato individuato tra l'altro anche a livello delle iniziative dei piani di resilienza e ripresa è stato individuato molto bene il connubio fra sostenibilità economia circolare e digitale sono tre diciamo mondi che interagiscono e che possono portare ad un sviluppo sostenibile delle imprese chiarissimo grazie Paolo Mario altrettanto rapidamente qual è il trend che ha registrato Netcom da questo punto di vista nell'ultimo anno cioè voi siete un osservatorio importante per un barometro importante la connessione tra digitale e economia circolare voi come l'avete registrato ma guarda noi vediamo che c'è un profilo dei compratori online che è spostato verso il profilo della popolazione più sensibile a questi temi quindi proprio il circolo virtuoso che citava Paolo da un lato digitale abilita ridisegno di filiere più intelligenti più corte più circolari e dall'altro il compratore online ha una forte domanda noi abbiamo ad esempio un osservatorio che divide in segmenti di e-shopper e abbiamo il green e-shopper che è quasi il 36% degli e-shopper è colui che è molto guidato da aspetti come il packaging green o guarda questi aspetti un ultimo punto a sostegno proprio di come l'economia circolare l'attenzione alla sostenibilità entro al digitale grandi player cito Amazon per citare il solito hanno lanciato il loro sistema di rating dei prodotti e questo per dire che accelerata ci sarà nei prossimi anni su questo tema bellissimo assolutamente ed è indubbiamente un fattore in cui tutti coloro che vogliono operare sull'e-commerce devono tener conto ultimo giro Flavia Terenzi perché perché è importante diciamo impostare correttamente un sito web anche dal punto di vista delle possibili ricadute in economia circolare cioè quali sono i maggiori rischi dal punto di vista invece della protezione dei dati sì ovviamente come accennava già Paolo è molto importante diciamo fare attenzione ai rischi perché perché nel prossimo nei prossimi dieci anni ma probabilmente anche meno visto poi gli obiettivi che si è dato in particolare l'Italia il digitale e l'innovazione guideranno particolarmente ovviamente la ripresa economica post-covid come correttamente diciamo aveva già appunto accennato Paolo nel piano nazionale di ripresa e resilienza che non è altro ovviamente che la trasposizione di quello che è il piano next generation U e che è stato approvato il 30 aprile dell'anno corrente ovviamente è stata inserita come prima missione l'innovazione e la digitalizzazione come ovviamente uno dei primi obiettivi che si è posto diciamo in particolar modo l'Italia e l'Italia in particolar modo attraverso appunto il ministero dell'innovazione digitale si è posto l'obiettivo di realizzare un'Italia digitalizzata entro il 2026 quindi con un bel largo anticipo rispetto ovviamente a quello che si è posto l'Europa e questo proprio diciamo per agevolare ovviamente la ripresa economica ovviamente post-covid e quindi rendere poi ovviamente anche tutto ovviamente digitalizzato i settori in particolar modo addirittura si parla diciamo di digitalizzazione della pubblica amministrazione piuttosto che anche di diciamo settori quali la cultura quale ovviamente anche addirittura i siti diciamo storici e il turismo ovviamente questa estrema digitalizzazione innovazione questo utilizzo ovviamente del sito internet e quindi dell'e-commerce non deve però ovviamente eliminare quella che è l'attenzione che deve esserci per la protezione dei dati quindi non bisogna dimenticarsi la protezione dei dati e soprattutto l'aspetto relativo alla sicurezza su cui anche la stessa appunto Italia col PNR ha posto diciamo l'attenzione quindi prevedere dei sistemi di alert a protezione dei front-end e del back-end ovviamente dei siti piuttosto che audit ovviamente continui sui soggetti che collaborano e che quindi entrano a contatto con il titolare diciamo del trattamento nonché ad esempio vulnerability assessment o penetration test e non da ultimo poi sistemi di alert quindi anti-malware piuttosto che ransomware che possano evitare quindi incidenti di sicurezza e anche coinvolgere dati personali e quindi tradursi in data breach Ottimo ultimissima domanda Mario c'è una ricaduta green anche dal punto di vista del packaging per poi insomma facciamo tanto sforzo a saltare alcuni passaggi evitare certe ricadute per esempio delle distribuzioni su gomma degli spostamenti e quant'altro poi però ci arrivano degli pacchettamenti giganteschi pieni di plastica o di sostanze difficili da smaltire e siamo appunto a capo Sì no c'è stata guarda proprio diciamo negli ultimi due anni sono quasi scomparse le chips quelle gialle ve le ricordate che una volta invadevano le case pericolosissime adesso c'è un'attenzione molto forte innanzitutto al packaging plastic free perché tutto sommato la tecnologia lo permette addirittura in prodotti freschi che richiedono magari una temperatura controllata oggi ci sono tecnologie diciamo a basso impatto ambientale e poi gli e-commerce già più attenti ma molte filiere e-commerce hanno di fatto ridotto il numero di passaggi delle merci hanno diciamo di fatto migliorato la sostenibilità del modello distributivo diciamo che c'è una grande speranza una grande attesa e faremo il punto tra qualche anno che le filiere e-commerce possono avere un impatto ambientale complessivamente migliorativo rispetto alle filiere tradizionali chiamate anche filiere lunghe ecco perfetto grazie grazie a Mario naturalmente io ringrazio tutti i relatori per la loro agilità e per la loro grande sintesi a cui li ho costretti per la tempistica siamo arrivati in fondo abbiamo provato a darvi un po' di elementi tecnici legali di tutela della privacy di tutela dei dati di quelle che sono le regole da una parte del mercato dall'altra delle normative per capire meglio questo mondo in cui ormai siamo è bene ricordarlo l'e-commerce è realtà l'e-commerce non è futuro nel futuro sarà una realtà ancora più forte ancora più perfezionata nel retail e nei servizi ma l'e-commerce c'è già bisogna conoscerla impararne le regole e le norme consapevoli del fatto che non si può più essere competitivi nel mercato del commercio senza la parte digitale siamo questo anno e mezzo ci ha proiettati in maniera rapidissima come neanche in un film di fantascienza saremmo riusciti a creare ci ha proiettati in un'altra dimensione in cui il digitale è parte dell'integrante della nostra vita in Italia e ancora di più in altri paesi che erano già partiti un pezzetto davanti a noi quindi diciamo che questa talk di oggi è stato dedicato proprio a quelle che sono gli aspetti basilari e quelli diciamo più evolutivi che un qualsiasi operatore del mondo del retail deve conoscere per poter essere competitivo anche in questa fase 2 dove il digitale e l'e-commerce saranno i protagonisti speriamo di esservi stati utili io nel frattempo ringrazio Paolo Peroni che è avvocato e partner di Rodden Partner Flavia Terenzi che è avvocato e Sirior Associated di Rodden Partner e naturalmente Mario Bagliani Sirior Partner di Netcom Service saluto Marco Cerù che è il presidente della sezione Anda Flazio che è andato via e naturalmente come sempre nel nostro indispensabile dietro delle quinte Marta Carzavacca che mi ha aiutato durante tutti i talk grazie a voi alla prossima grazie a tutti buona serata buona serata buona serata buona serata buona serata grazie a tutti